La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Sono andati via con i carri armati. Sono tornati con le banche. Il nuovo campo di battaglia si chiama Mercato Libero. Lo spread è l'ultimatum. Organizzazioni sovranazionali fungono da quartier generale. Le banche speculative come droni individuano il bersaglio ed in maniera invisibile lo colpiscono, seminando morte e distruzione. Non ci sono soldati che in mimetica si aggirano in fangosi campi, ma colletti bianchi con abiti scuri, che si riuniscono in hotel di lusso e nelle sfarzose sedi dei potentati finanziari e delle multinazionali. L'esproprio militare diventa accessione di sovranità. Il racket imposto alle colonie viene ora chiamato fondo salva stati. L'invasore diventa il supervisore. L'occupazione diventa il commissariamento. I salotti televisivi diventano le piazze dove esporre il nemico a testa in giù. Ma allora cosa è rimasto invariato rispetto alle guerre tradizionali? Soltanto la volontà di conquistare un paese, seminando povertà e distruzione. Ed il disprezzo verso i popoli e la vita altrui per la brama di potere. Un popolo che non capisce che gli è stata dichiarata guerra è un popolo che non si difende, che non si organizza, che non si riscatta. Mentre il cartello finanziario internazionale, che aspira a prendere il controllo dei governi, ha già dispiegato i suoi uomini nei punti strategici delle istituzioni nazionali, dell'economia e della vita sociale dei popoli e degli stati a cui vuole sottrarre libertà individuali, dignità, democrazia e autodeterminazione. Il popolo italiano non può più attendere. Se non si organizza, la guerra l'ha già persa. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.